Ripeto, la differenza però è che nel caso della Camorra, dell'Andrangheta o della mafia almeno i nostri magistrati hanno almeno uno strumento per combattere, almeno la nostra polizia ha uno strumento per combattere, cioè la loro illegalità. Nel caso di questa maggiore mafia di cui ho parlato fino adesso non abbiamo nessuno strumento per andarli contro.